Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 16 Ultimate Team, la recensione di Higuain Record Breaker inserito nel Team of the Week di questa settimana. Prima di cominciare però ho cambiato scheda di acquisizione, quindi da adesso i video dovrebbero essere tutti a 60 frame per seconda invece che 30 come in passato per allinearci a quello che è FIFA perché il gioco gira a 60 frame e non a 30. In questo primo video ho avuto qualche problemino con la qualità delle clip, quindi ce ne sono alcune che non mi soddisfano per niente e altre invece con una qualità più accettabile, quindi vedrete degli artefatti a video, spero non vi possa troppo disturbare, dal prossimo non ci saranno più. In ogni caso ripartiamo subito con Higuain, vediamo come si comporta in campo cominciando come sempre la velocità e vediamo se ne vale veramente la pena rispetto alla versione 90 che era già eccellente. Velocità, la velocità è buona, 84 di accelerazione e 87 di sprint speed, è un giocatore veloce secondo me Higuain, è superiore alla media alla fine degli altri attaccanti, per me però è inverso i valori perché sembra più in campo con 87 di accelerazione e 84 di velocità massima perché ho notato che nel primo passo riesco a saltare gli avversari, nel lungo mi recuperano di più, in ogni caso valori sono buoni. Il tiro, il tiro è il valore più alto sulla carta, 95, non oso penserà alla versione team of the season, 99 di posizionamento e 99 di finalizzazione, li permettono di essere sempre al posto giusto, al momento giusto e di insaccare tranquillamente la maggior parte dei suoi tentativi, anche se a volte prende qualche palo di troppo ma può essere anche a seconda delle varie partite che state giocando, a volte succede. Dove è stato migliorato rispetto alle già ottime versioni precedente? Secondo me nel long shot perché ho notato che da fuori area segna più facilmente, ho impegnato il portiere con più facilità rispetto a prima, quindi se devo dire degli upgrade netti che ho notato vi direi nel long shot. Sempre ottimi, la potenza di tiro con 95 e le stalle più di debole con 4 che vi permette di tirare se di destro che di sinistro. Per quanto riguarda il dribbling, ottimo, 80 di agilità e questo non è affatto male soprattutto rispetto alle prime versioni base che avevano qualche problemina di troppo, 93 di controllo palla e 91 di dribbling, li permettono di stoppare bene il pallone, metterlo giù e involarsi verso la porta, quindi un giocatore davvero totale sul dribbling è arrivato a ben 90 che è un valore che vediamo in poche poche carte. Per quanto riguarda il passaggio buono, ovviamente non è la sua qualità migliore, però 82 di passaggio corto può aiutare soprattutto quando lo scrate come punta unica e deve servire i suoi compagni. Passaggio lungo lascia un po' desiderare, 64, ma ricordiamoci che Higuain deve ricevere i lanci lunghi, non farli lui in prima persona. Per quanto riguarda invece i valori fisici, vi segnalo 91 di forza fisica che inizia a diventare un valore molto molto interessante, che gli permette di sopravvivere a diversi scontri fisici con i difensori senza perdere facilmente il pallone, e i valori del colpo di testa, perché? Perché ha 83 di elevazione e 99 di colpo di testa. Notato che soprattutto sui cross si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, aiutato probabilmente anche dal posizionamento. Ovviamente vi ricordo che per sfruttarlo al 100% è meglio fare cross che vandano o sul primo palo o sul secondo per cercare di prendere un po' di sorpresa le difese avversarie. Dove utilizzare questo giocatore? Direi o un 4-3-1-2 con tutti i giocatori argentini, abbiamo Aguero, abbiamo Sosa Team of the Season, abbiamo tanti giocatori ottimi, non costa neanche tantissimo questa squadra perché costa intorno al mezzo milione di crediti, che sono sì tanti crediti, però conosco gente che ne ha molti, ma molti di più, ovviamente potete mettere le versioni in base di questi giocatori, la rosa resta comunque abbastanza competitiva e risparmiate un po' di crediti. In alternativa potete fare un 4-4-1-1 di Serie A, in questo caso Higuain può servire Insigne e Perisic sugli esterni, che comunque vanno a creare superiorità numeriche, vanno proprio a servire il giocatore del Napoli in profondità o comunque sui cross, e dietro di lui avete Vasquez del Palermo nella sua versione Hero che è uscita proprio oggi e probabilmente proverò nei prossimi giorni. In conclusione, questo Higuain Record Breaker ha una velocità ok, è il finalizzatore top perché in Serie A davvero non ha rivali, sottoporta difficilmente sbaglierà un tiro, il long shot è stato migliorato e questo si nota rispetto alle versioni precedenti, 4 stelle piede debole, quindi potete tirare sia di destro che di sinistro, il dribbling è ok rispetto al passato, soprattutto grazie al controllo di palla e all'agilità e il tipo di carta perché personalmente le carte Record Breaker sono bellissime, quindi questo è un pro più estetico che concreto. Di contro, quanto è migliore del 90? Perché sono solo 37 punti rispetto alla versione precedente, fatevi un po' i conti, Higuain 90 sapeva già segnare, forse i miglioramenti si notano più nel long shot che nel dribbling rispetto magari alla finalizzazione che passa solo da 97 a 99, vedete un po' voi, costa anche molto meno la versione 90 rispetto a questa Record Breaker, anche se questa versione è appena uscita. Inoltre il team of the season ne arrivo, quindi probabilmente settimana prossima uscirà una versione ancora migliore, lì si noteranno tanto i miglioramenti perché avrà intorno al 95-96 di valutazione e rispetto a questa 91 sono tanti punti di differenza e le tre stelle skill che possono dare fastidio a qualcuno ma erano un problema, sia sulla versione base, sia su tutte le versioni in forma, sia su questa versione Record Breaker. Il prezzo è alto al momento, 234k su Xbox e 294 su PlayStation, ma ricordatevi che se uscirà il team of the season della Liga venerdì potrebbe scendere molto e poi è un giocatore validissimo, vale tutti questi crediti che costa. Ditemi un po' cosa ne pensate di questo Higuain, se volete prendere lui o aspettare il team of the season, mi dispiace ancora, mi scuso per la qualità delle clip, alcune non sono perfette come qualità video, ma dal prossimo risolviamo al 101%, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!